La leggenda dice che a nessuno è permesso di prendere quest'acqua. C'era una volta... Io sono il re e mi è permesso fare qualsiasi cosa. Una coraggiosa principessa. La principessa è stata rapita. E da chi? Barbaro! Tu sei la principessa Barbara e dovevi sposarti oggi? Ti rivenderemo e tornerai al papalazzo. Alla ricerca del suo principe azzurro. Io non tornerò al palazzo di mio padre. Andrò al palazzo del principe Edward. Che cosa facciamo adesso? Troveremo Boki e lo faremo a pezzi. Impara le buone maniere. Sono una principessa e non ti permetterò di uscire. Umani, credete di comandare? Ma non è così. Lei era qui. Migliaia di principesse prima di te. Ma lei chi è? Madre natura. E così, da allora lui la protegge. Per essere precisi, io sono il capo della sicurezza e lui è segue gli ordini. Ma l'amore può nascondersi. Che cosa è l'amore? È una malattia letale. Non essere sciocco, coniglietto. Dove non te lo aspetti. Boki, no! Da adesso in voi sarò io a comandare il mondo. Boki! Hai una cotta per lei? Ehi, ehi! Dal 29 febbraio solo al cinema.